Nuovo successo internazionale per Jasmine Paolini del tennis club Lucca Vico Pelago. La tenista lucchese ha infatti vinto il torneo ITF di Walking in Inghilterra, dove tra l'altro si è rappresentata come testa di serie numero uno. La 21enne di Banni di Lucca ha prima superato agevolmente due wild card britanniche, poi ha battuto nei quarti la francese Myrtille George e in semifinale la russa Vitalia Diacenco. In finale Jasmine Paolini ha regolato la romena Michaela Buznarescu con il punteggio di 6-4-1-6-6-4. È il sesto titolo del circuito per la Paolini, che a giugno aveva vinto il torneo di Marsiglia, il primo successo ottenuto sul cemento. Con questa vittoria Jasmine si conferma intorno alla 130esima posizione nel ranking mondiale, ma la tenista lucchese mira ormai ad entrare in breve tempo tra le prime 100.